Mentre la sua ex Bianca Atzei piange per lui all'isola dei famosi 2018, Max Biaggi potrebbe aver trovato un nuovo amore. Per il momento il condizionale è d'obbligo, ma il settimanale Diva e Donna lancia l'indiscrezione mostrando le foto del pilota che esce dallo stesso palazzo con la giovane attrice Michelle Carpente. Non è la prima volta che si parla di nuove storie per Biaggi dopo la rottura con la Atzei. Solo un mese fa era uscito lo scoop di una presunta liaison con una modella americana. Michelle Carpente, attrice romana a 29enne, festeggerà i 30 anni il prossimo 1 settembre, ha iniziato la carriera al cinema con il ruolo di Diletta in Scusa ma ti chiamo Amore di Federico Moccia, tornando poi a interpretare lo stesso personaggio nel Sequel Scusa ma ti voglio sposare e lavorando con Moccia anche in Amore 14. Ha inoltre recitato in L'ultima estate di Eleonora Giorgi, in Cocapop di Pasquale Puzzessere, per cui ha ricevuto il premio Etruria Cinematrice e il premio Ombra della Sera Franco Cristaldi, e nelle fiction Il Peccato e la Vergogna 2 è Lauretta L'Onore e il Rispetto un ultimo capitolo nel ruolo di Emanuela, e i Medici. E anche conduttrice televisiva, include su Coming Soon Television, e in Ben 10 La Sfida su Boeing, nel 2017. Risulta che Michelle si è sposata nel 2013 ed è mamma del piccolo Daniele dal 2015. Non c'è però traccia di un compagno al suo fianco sui social negli ultimi mesi. L'attrice pubblica invece diverse foto insieme al suo bellissimo bambino. Intanto, nella terza puntata dell'Isola dei Famosi 2018, Bianca Azzai ha ricordato la fine del grande amore con Max Biaggi, piangendo in diretta. «Cerco di essere forte ma faccio fatica», ha ammesso la cantante, spiegando di non provare alcun risentimento nei confronti dell'ex. «Io gli voglio un bene immenso, mi ha dato tantissimo, mi ha fatto credere in un amore vero. Era una storia meravigliosa, sembrava così magica per questo fa così male. Sembra che Mara Venier abbia visto Biaggi nei giorni scorsi e lui le abbia confessato di provare ancora un grande affetto per Bianca. Il pilota l'aveva lasciata alcuni mesi dopo il grave incidente, spiegando di volersi dedicare soprattutto ai suoi figli. Chi se ne frega!